Aristotele, il significato delle parole Occorre stabilire, anzitutto, che cosa sia nome e che cosa sia verbo, in seguito che cosa sia negazione, affermazione, giudizio e discorso. Ordunque, i suoni della voce sono simboli delle affezioni che hanno luogo nell'anima, e le lettere scritte sono simboli dei suoni della voce. Allo stesso modo, poi, che le lettere non sono le medesime per tutti, così neppure i suoni sono i medesimi. Tuttavia, suoni e lettere sono medesime per tutti e costituiscono le immagini di oggetti, già identici per tutti. Orbene, di questi essi appartengono, infatti, ad una disciplina differente. D'altro canto, come nell'anima talvolta sussiste una notazione che prescinde dal vero o dal falso, e talvolta, invece, sussiste qualcosa cui spetta necessariamente o di essere vero o di essere falso, così avviene pure per quanto si trova nel suono della voce. In effetti, il falso ed il vero consistono nella congiunzione e nella separazione. In sé, i nomi dei verbi assomigliano dunque a delle nozioni, quando queste non siano congiunte a nulla, né separate da nulla. Esse sono, ad esempio, i termini uomo o bianco. Quando manchi una qualche precisazione, poiché in tal caso non sussiste ancora né falsità né verità, ciò è provato dal fatto, ad esempio, che il termine becco, cervo, significa bensì qualcosa, ma non indica ancora alcunché di vero o di falso, se non è stato aggiunto l'essere oppure il non essere con una determinazione assoluta o temporale. Il nome è così il suono della voce, significativo per convenzione, il quale prescinde dal tempo ed in cui nessuna parte significativa s'è considerata separatamente. Aristotele, organon.